Pronto? Prendo la moneta e la posso coprire a spavare Eh guarda La fa sparire guarda eh Eh la moneta Non c'è più Sparisce Vai posso farlo? Oh 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 Guardi la moneta Di nuovo di nuovo Posso sparire la partietta magica Così Uno Due Tre Taglio Guarda No Guarda Guarda Vieni a venire Uno Due Tre Pronto Scusate qui c'è Scusate qui c'è Ok Adesso si pensano noi che il falsoletto Buia ma buia Cosa è buia? Vieni a vincito E Eh Possibile Il falsoletto Venga toccato la dogna Ah è buio Allora se mi ci dice Vai Chiara Siamo tutti noi Quello è più vicino Vai Chiara Vengono qua Come fai? Come fai Chiara? Scusi eh No Ma è licita, ma è licita! Ma l'aspettavo! Bravo, bravo! Brava molechiana, bravo! Brava molechiana! Oh, Eusea! Basta! Eccoci! Ma ok, no? Sotto a spazio, sì? Certo, noi andiamo un pomeriggio dietro Quanto vuole stare in un pomeriggio? Che scatta! Grazie! Guarda, se ti vedi a cena ci fa un piacere! Uuuuh! Attraverso il fazzolino, non c'è trucco, non c'è fatto! No, c'è solo io! Non c'è nulla! Ma che c'hai? Tu? Sì, bravo! Certo! È così da dire roba! Una monzaria! Un braccio! Un monzario! Ma no! Non c'è nulla! Vai, vai, vai! Mettite la mano così! Così, più un po' più dietro! Ok! Il fazzoletto! Di nuovo! È stretto troppo? Va bene? È il trucco o è il trucco? Verifica mamma che non c'è il trucco! È il trucco o è il trucco? È il trucco o è il trucco o è il trucco? È il trucco o è il trucco! È il trucco! Nooo! Bravo! C'è trucco! È un trucco perché è bravo! È tutto affatto! Chi ero sono? Circo a mezz'avanti Davvero? Simpatico Senti che l'ha messo a meno 5 Senti che l'ha messo a meno 5 Pazzo di carte Pazzo di carte Pazzo di carte Apro le prime Queste sei Pazzo di carte Scendite una No Lo devi dire Non lo dici per una macchinetta? Scusa Io non posso sapere che l'ha scelto lei Ok Giusto? L'ha detto la macchinetta sull'altra Ok Adesso ce l'ho voglia di chiamare Scusa Scusa No Quindi è lo stesso Aspetta Quindi è velo lo stesso F Scusa 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 Vedi televisione che io I suoi No In televisione magari dici c'è qualcuno Però io Non lo dico Questo è sempre il tuo No Aspetta Certo Certo Allora posso toccare, io la posso portare nell'altra mano, così, e la faccio a ballire. E la faccio passare attraverso la tasa, in questo modo. Bravo! Hai visto Nicolò? Una pallina, una pallina, una mano, due palline, prendo la pallina e la metto nella mano, prendo l'altra, due palline, presso la pallina, prendo la pallina, prendo l'altra, una terza, una quarta pallina, ...brava! Non è facile questo! Non è facile questo! Questo ce lo dovresti spiegare! Com'è un giocombe? Un giocombe? Un giocombe? Un giocombe lo vedrò io! Cos'è che ti sgama? In sgama? Indicare una! No! Questa la stiamo facendo? No! Ma questa te la vedi al gioco per me! Non è facile! Prendendo la pallina! Prendendo l'altra! Giù! 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 E... Oh, tre! Siamo fai applicati di palline! Perche' in base a con le... Aspetta! In base a con le strengine! In base a con le strengine! e trovano tutte la soluzione ma lo farà questa mia amica sono due anche se è una se la cava se la cava ma ti piace il mango? hai addirittura quattro volte? hai promesso quattro volte? un recente e due, metri alle quattro? un ultimo pezzo di questo se volete... una pallina mi la metto in tasca domani sei su youtube una pallina mi la metto in mano una pallina mi la metto in tasca ma ecco quante ce n'ho? due sono sempre tre ma non piano siccome hai venuto complessi non faccio l'ultima volta una pallina mi la metto in tasca una pallina mi la metto in mano una pallina mi la metto in tasca quante ce n'ho? quattro! nessuno ti voli sparire è sparire tu ti verrai conto che avere i tuoi minori qua? ce n'ho una grossa qua però sai che molli appoggiaci a capo congress o a farai partire niente No, eh? Eh, no. Ma tu hai fatto il bar? Eh. Basta? Ah, beh. Cioè, nel senso, almeno noi, poi se vogliamo andare a casa non c'è qualcosa, non posso rispettarla.